Con la vittoria della finale di Coppa Italia a Roma il 15 maggio scorso, 2024, contro l'Atalanta con la rete di Vlaovic al quarto minuto, la Juventus ha vinto la sua quindicesima Coppa Italia, ma soprattutto ha chiuso, in questo modo, un triennio. E' per questo che oggi il bilancio sportivo della Juventus 23-24 sarà un po' diverso perché dentro il bilancio sportivo della Juve 23-24 ci sta il bilancio di quello che è accaduto nell'ultimo triennio della Juventus, una società che è già proiettata al futuro. Ne parliamo tra poco, non prima di avervi ricordato Fugolitics, la mia newsletter che esce ogni sabato mattina in cui si parla di calcio e di sport business in particolare. E poi like al video se vi è piaciuto, campanellina per rimanere sempre aggiornati e iscrivetevi al video se non l'avete ancora fatto. Ed eccoci qua per il secondo video della serie sui bilanci sportivi delle squadre 2023-24. Nel primo bilancio sportivo trattato del Milan, quest'oggi parlo della Juventus. Juventus che ha vinto un trofeo, la Coppa Italia, che è tornata a vincere un trofeo dopo l'ultima Coppa Italia che era stata vinta da Andrea Pirlo. Con Andrea Pirlo alla guida della formazione juventina era ancora la Juventus di Cristiano Ronaldo e fu quella, la prima Juventus che non vinse un campionato dopo nove anni consecutivi. Sappiamo tutti la storia, è arrivato Max Allegri nella stagione 2021-22, ha portato avanti il progetto triennale che si è chiuso, si è chiuso con la vittoria e si è chiuso con i fatti che conosciamo relativi appunto alla figura dell'allenatore. Ma non è dall'allenatore che voglio partire, anzi l'allenatore lo metto dentro a sandwich perché sta nel pacchetto di una società. L'allenatore non è tutto, è una parte importante ma come mi è capitato di dire in altre occasioni, una grande società è tale quando tutti remano nella stessa direzione. E lo si è capito, lo si è capito molto bene che qualcosa succedeva e successe ed è successo nella Juventus in questa stagione e nelle ultime stagioni. Alcune cose le sappiamo, alcune rimangono nel non detto. Andiamo però con ordine. La Juventus oggi, ieri e domani riparte da una proprietà solida, una proprietà che è stata capace di 700 milioni di aumenti di capitale negli ultimi anni. Ne ho fatto un video specifico che vi invito ad andare a vedere, vi lascio il link in descrizione. La proprietà Elcan Agnelli ha sempre supportato una società che è riuscita ad automantenersi per un periodo ma che ha sempre avuto bisogno, innanzitutto negli anni dopo Calciopoli e poi negli anni dei problemi economico-finanziali che conosciamo per eccesso di spesa, per una strategia manageriale e gestionale sbagliata senza ombra di dubbio che c'è stata negli ultimi anni, ma appunto la proprietà è sempre stata a sostegno della squadra, non l'ha mai lasciata da sola, ha sempre immesso capitale qualora fosse stato necessario. Proprietà che va vista da due punti di vista. Dal punto di vista economico è inappuntabile, dal punto di vista di quello che è accaduto però negli ultimi vent'anni alla Juventus e al brand Juventus, si ha la percezione della Juventus nel mondo e dico molto più nel mondo che non in Italia dove comunque permane uno zoccolo duro e il tutti contro la Juve al di fuori dello zoccolo duro dei tifosi juventini che rappresentano circa il 35%, non si può però negare che una proprietà capace, importante, rilevante a livello internazionale come Exor non può lasciare che il suo club ciclicamente sia investito da questi scandali. A prescindere da come ne pensiamo, perché io posso darvi la mia versione e la mia opinione di Calciopoli o la mia versione e la mia opinione di quello che è stato il caos plus Valenze della scorsa stagione, ma poi rimane un fatto, sei il proprietario di una società di calcio e non puoi permetterti che ciclicamente queste cose investano la tua società. Devi essere attento, devi essere proattivo, la lontananza fisica della proprietà è anche una lontananza di attenzione, una lontananza di seguito. Quello che è accaduto è dal punto di vista della società della proprietà preoccupante e non può essere trascurato. E se la Juve si ritrova nuovamente ad un punto zero dopo il triennio allegriano, beh, qualche colpa anche la proprietà ce l'ha. Proprietà che sia ben chiaro, dal punto di vista economico-finanziario è il meglio che ti possa accadere. In Italia in particolare nessuno ha immesso soldi come lo ha fatto la proprietà della Juventus. Certo ci sono state operazioni più grandi, ma perché c'era di mezzo anche una compravendita. La proprietà della Juventus invece nel 2023 ha celebrato i 100 anni di continuità dirigenziale. E veniamo ad Allegri, perché Allegri poi è il vero tema, ma secondo me è un tema eccessivo, nel senso che le società sono fatte di tante componenti. E non c'è ombra di dubbio che negli ultimi tre anni, è fattuale questo, Allegri sia stato l'unico elemento di continuità della Juventus da quando arriva nell'estate del 2021 fino ai giorni nostri, fino alla vittoria della Coppa Italia 2023-2024. Questo è un dato di fatto ed è un dato di fatto incontestabile. E quello che Allegri fa, una reazione assolutamente deprecabile quanto accaduto nel post partita della finale di Coppa Italia, ma soprattutto, per come ci è stata raccontata, ma anche quello che abbiamo visto molto prima, la sceneggiata, la reazione, l'eccesso di foga, di agonismo, i gesti, sono la sintomaticità di un uomo che fa una cosa, ripeto, a mio modo di vedere, deprecabile, che andrebbe sempre assolutamente stigmatizzata quando non addirittura condannata. Ma perché si arriva qui? Si arriva qui perché Allegri subisce per tre anni la posizione dell'essere al centro di un sistema che sta crollando. È l'unico puntello e allora, purtroppo, in quelle situazioni diventa il bersaglio, diventa il bersaglio delle critiche, diventa anche per alcuni l'unico punto di appoggio per vedere una continuità e vedere in qualche modo una parvenza di progettualità, ma accumula probabilmente troppo su se stesso. Lo dico come dato fattuale, non come giustificazione. Lo dico come dato che va capito in sé, non per dare una giustificazione. E dico anche questo. Io spero che nel nostro mondo oggi si possano ancora fare delle analisi complesse, dove non c'è solamente il bianco e il nero, non c'è solamente una divisione dicotomica tra ragione e torto, ma si possa analizzare nella complessità i casi. L'Allegri che arriva a quella reazione sbagliata, a quell'eccesso, è un Allegri che vive tre anni assolutamente molto, molto difficili. Lo fa prendendo un importante salario che gli impone, un importante ingaggio che gli impone anche ha determinati obblighi, ma dentro il contesto va vista tutta la situazione. E poi è chiaro che finisce naturalmente e finisce purtroppo male il rapporto in maniera giusta, ma io credo che la fine del rapporto fosse qualcosa di già stabilito all'inizio della stagione. Sul piano tecnico, squadra che non era bella e io dico nemmeno concreta e che secondo me per quello che abbiamo visto fare non era nemmeno una squadra che ha messo in campo i dettami del gioco all'italiana, perché si è persa. È difficile qui capire, sicuramente c'è una grossa componente di un allenatore che pensa il calcio in un determinato modo. Non possiamo chiedere a Allegri di cambiare il suo modo di giocare calcio, ma pur nel suo modo di intendere il calcio, qualcosa di molto migliore lo si poteva secondo me vedere. Poi l'analisi va fatta sulla rosa e qui faccio questa riflessione. Ecco, la grande Juve dei nove anni degli Scudetti prendeva i giocatori che non vedevano campo per sei mesi e dopo tre quattro mesi iniziavano a giocare. Li portava nella conoscenza dell'ambiente, nella conoscenza del sistema e poi li portava dentro il campo e li portava a giocare e li portava ad essere protagonisti. Ecco, quando la Juve è diventata un'altra cosa dove chi arrivava diventava titolare, dove i giovani dovevano essere titolari in quanto giovani, ecco quella lì era una Juventus che già dal punto di vista delle fondamente e molto prima dell'intervento dell'allenatore stava diventando una Juventus delle necessità e non più una Juventus delle grandi opportunità. Questo è quello che è accaduto e questo è quello che è accaduto sopra la testa di Allegri che certamente quando arriva la Juve non si aspetta un triennio di questo tipo dove cambia tutto, cambia la dirigenza, cambiano le situazioni, affronta un 22-23 difficilissimo. Io qui credo che un allenatore con meno esperienza avrebbe avuto un problema maggiore nella gestione del complesso, però alla fine i risultati sono che 70-72 i punti in campionato prima di quest'anno la Juventus è lì, si è impaludata lì, non è riuscita a dare una continuità. Non so chi sarà il prossimo allenatore o quale sarà la scelta migliore sul prossimo allenatore, o meglio non so come andrà il prossimo allenatore, è chiaro però che si è arrivati a un punto di rottura inevitabile che impone ad andare avanti. L'Under-23 ha finito per essere un qualcosa di davvero importante che ha finito per essere una realtà fondamentale che ha salvato la Juventus. Io sapete sono nel principio contro le seconde squadre perché sono una formalizzazione di una disparità di fatto che esiste nei fatti e che viene in questo modo ratificata, però non c'è ombra di dubbio che il progetto Under-23 sia stato un progetto di salvezza anche economico-finanziaria per la Juventus che ha potuto contare sui giocatori di prospettive e di qualità. Ma una cosa è inserire il canterano alla Real Madrid che poi progressivamente entra una cosa è quando devi affidarti al canterano perché è solo sulle sue qualità, e questo lo sappiamo è accaduto, che devi fare fede e puntare per andare a vincere partite importanti. Non è una cosa questa, una cosa da Juventus. Ripeto, nell'importanza di tutto questo abbiamo visto la migliore espressione dell'Under-23 juventino nel momento peggiore. Non so cosa sarebbe stato con la Juve dei nove anni, se l'Under-23 avrebbe continuato ad essere un centro plus valenze o cosa, non lo so, ma è certo che oggi una qualche lezione la si è dovuta imparare anche da qui. L'Under-23 deve diventare un'opportunità, è diventata una necessità per la Juventus e questo non poteva portare a risultati particolarmente brillanti. La Juventus continua ad avere il brand più forte d'Italia e in chiave futura io vedo un passaggio. Io non credo, io credo che la Juventus abbia impostato un grande lavoro, ci sono i miei video sulla storia economica della Juventus a partire dalla fine degli anni 90 e credo che se la Juventus ha fatto quei nove anni di dominio in Italia, dopo quello che le è accaduto in calciopoli, soprattutto passando dal secondo terzo posto nella Money League, cioè i club che fatturano di più in Europa al tredicesimo posto e non schiodandosi dalla decima a undicesima posizione, ma dominando in Italia, è perché c'era un modello consolidato e una società consolidata, una società patrimonializzata con lo stadio, una società che aveva un metodo di lavoro al suo interno vincente e che l'ha dovuta solamente ricalibrare alle esigenze nuove e che quando c'è stato un leggero calo degli altri è stata lì pronta non solo a vincere ma a vincere con incredibile continuità e questo secondo me è un dato importante ed è un dato quello della continuità aziendale, dell'inquadramento aziendale e del metodo di lavoro aziendale che sarà fondamentale anche in questa altra ripartenza. C'è poi un progetto di direzione sportiva delineata e io qui credo che sarà molto importante capire quale realmente sarà il metodo Giuntoli perché a mio modo di vedere Giuntoli è un allenatore a cui riconosciamo grandi meriti negli ultimi anni, deve ancora imporsi sul modello Juventus che è un modello dove vincere è l'unica cosa che conta, anche qui ho fatto un video dove parlo di questa frase che è tutt'altro che antisportiva ma giuntoli chiaramente ora arriva al punto perché il primo mercato è stato fatto al 90% di esigenze di bilancio, ora bisogna andare a prendere i giocatori capaci di spostare gli equilibri come si diceva negli anni addietro. Ecco, un'ultima cosa, un errore da non più commettere sarà quello di lasciare un solo uomo al comando dentro, mira di una narrazione che diventa tossica e che porta allontanamento e disinteresse perché anche questo lo si può verificare, io l'ho verificato e tutti lo stanno verificando anche ad esempio nei dati di ascolto tv delle partite, allontanamento e disinteresse. Dovuto al gioco, sì, ma dovuto a tutta la questione e alla situazione tossica che si è creata intorno ai tanti cortocircuiti, non solo quello del gioco, non solo quelli riferibili a Max Allegri che si sono creati dentro la Juventus in questi anni. Ho voluto fornire il mio punto di vista cercando di fare un'analisi complessa, potete analizzare ogni singolo punto, aggiungerne dei vostri, vi ringrazio per essere stati in mia compagnia come sempre sul canale, a presto, ci vediamo nei prossimi video, ciao!